Siamo nei Camerini del Morlacchi, è mezzogiorno, un'ora un po' improbabile per il jazz, ma noi siamo qui lo stesso e siamo qui con Fakir Atakoglu, che è un pianista turco di Istanbul, che in questo momento sta andando veramente per la maggiore. Fakir, come ti senti di essere qui in Umbria Jazz e venire a giocare la tua propria musica? Sì, è molto animale, è davvero un ottimo posto per essere, per me è molto animale, perché stiamo con Alain e Horacio e sempre, quando spiego con diversi musicisti come loro, come Horacio e Alain, hanno messo il loro input in timbre, quindi è sempre diverso. E per poter spiegare la mia musica e le mie composizioni in un festival come questo è un buon sentimento. Hai fatto due album con Horacio e Alain? No, con Horacio ci sono tre albumi, Alain non abbiamo ancora cutto un album, ma siamo passati a via e spiegare in le tour. Grazie mille.